ciao ragazzi sono massimero rosolino sapete benissimo insomma con una grandissima e fortissima passione per il running soprattutto quando si tratta di insomma iniziative benefiche beh questa volta detto fatto e accontentato il 26 di settembre c'è un evento bellissimo in tutta italia nelle maggiori piazze italiane organizzate da chi insomma dall'esercito a cui parteciperanno artisti e tantissimi sportivi sia ferrati nel running che come me insomma soltanto appassionati ma il nostro obiettivo è donare donare alla città della speranza insomma un istituto che fa grandissima ricerca soprattutto nell'ambito pediatrico parliamo di bambini quindi il nostro cuore deve proprio insomma esplodere di energia e cosa succederà questo 26 dalle 8 di mattina alle 20 di sera quindi 12 ore a disposizione le varie squadre nei vari concentramenti appunto da nord a sud in tantissime città in tantissime piazze quindi potrete insomma seguirci mentre studiamo facciamo fatica per totalizzare più metri possibili saranno i metri a fare la differenza in un'ora a disposizione ognuno di noi potrà correre un'ora e insomma in un'ora quanto posso correre beh scopritelo nel frattempo continuateci a seguire ti fate per noi perché veramente la ricerca ha bisogno di tantissimi cuori grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti